Sono stato ambasciatore del programma già nella mia precedente legislatura e voglio essere ancora di più, ancora con più determinazione, un grande sostenitore. Si tratta di un'opportunità per fare un'esperienza in un altro paese europeo, imparando da imprenditori già affermati e costruendo una rete. Abbiamo i dati, chi partecipa a questo programma costruisce imprese più resilienti, riesce ad allargare i mercati di azione, riesce a costruire una continuità e una forza imprenditoriale che è forte anche di una connessione creata attraverso un programma europeo. Compito anche nostro, anche di chi nelle istituzioni si è preso il compito anche di promuovere questa opportunità, è farla ancora conoscere di più, mettere in connessione imprese, realtà di formazione e giovani aspiranti imprenditori affinché la cultura imprenditoriale, che è un elemento fondamentale per la crescita di ogni paese europeo e dell'Europa tutta, possa svilupparsi anche in un contesto di scambi che hanno già dimostrato di essere un grande fattore di sviluppo e di crescita.